Quest'anno dei suoi bibicieri? Che cos'è? E' un suoi bibicieri che ho parlato di Rodrigo, che è da papà. E' un bambino che mi piace. Ma è un bambino di cavallette? Cavallette, in italiano cavallette, ma è un bambino. E' un bambino che è un bambino. E' un bambino che è vero. Come facevate per eliminarle? Beh, a volte erano i bambini. Però un anno dopo, ogni anno, erano i bambini. Erano i bambini, i bambini, i lanciafiamme. A lanciafiamme? Lei ci è mai andato? No, no. E' un bambino che era la mia squadra. E andavano in Italia tutti. Poi, erano i bambini, i bambini. Poi, erano i bambini, i bambini. a sabba a sabba che bufaiai? a sabba che bufaiai te ne assavori? a bustisi? e a sangrotese a sospontese e a tameghinas fino a che anni avete avuto queste invasioni di cavallette? 3 anni 45? 46 e 47 e secondo lei perchè c'erano tutte queste cavallette? eh tutte niente dall'africa dall'africa e anche niente di s'africa o dal campidano? eh non, se veniva dal campidano o dal Gesù ma non è niente di niente di s'africa sicuramente qualche anno sanno fare si arriva a sicilia e lo santo bloccavo si metteva il bambino in che zona del paese vivevate? via Sant'Anna in quante stanze avevate? quattro battero battero in undici eh e che non è che vi attraverso a scorsa distanza se c'è gente che ci vuole più d'altra tutti usano proprio camera e letto anche in terra anche in terra che in storia che in brand che come tenere la red in un'altra cosa ti ho fatto? quattro camere eh come ti hai organizzato questa cosa? io ho fatto un maschio e i maschi ho fatto in una camera da che abbiamo in vita in cinque? eh in una camera e quando ti ho fatto la drummire in Sosarto? in Sosarto a volte abbiamo in tre in un'altra cosa cosa ti ho fatto? con questa storia con questa storia di Mordego storia di Mordego? eh da via in un momento? eh ogni tanto cambia io li stiamo da nuovo se morire Quanto anno tenia da questa prima volta che aveva il drummio in Sussardo? 6 anni. A 6 anni? Si ricorda? E a timio? No. A solo? No. Il drummio aveva usato un bambino, un altro grande, un altro. Ora vive solo. Sì. E non ti pensi di essere bestiammi? No, ancora no. Ho cominciato dopo. Io credo di lavorare anche a 32 anni. Prima di 32 anni? No. Non eravamo arrivati. Ma non eravamo arrivati. Sì, di 41 anni. Non eravamo arrivati dopo il periodo di un malo. Secondo voi ti dicevi che ora è il periodo di un malo? Come? Famili? Sì. Mentre non eravamo più fammi. Non eravamo arrivati dopo il mio papà e non eravamo arrivati dopo il mio papà? No, non eravamo arrivati in un altro lavoro che andavamo arrivati a vendere e a vendere. direttamente. Dei bid da noi o? No, a noi ci siamo lavorati, uno della salute e uno dei due noi. E hai denunciato questa cosa o? Eh, ho denunciato questa cosa, perché c'è tanta chistiera. Scusate, tornavo a quando ero un uvipio, a 6, 7, 8 anni o no? Già dormire in Sosarto. E tu, qual è la via dove andavo a Sosarto? Come ti diceva in realtà, in realtà, in realtà? Si dà regolare? E noi facevamo vivere in Puguzas, Meryaga e Sillida, in questo forale. E tutti noi? No. In parte di Agustizio, in parte di Ardauli? No, no, in questa zona no. In Neoneli? Eh. E si mai andava a fare travoni? No. No. Ravone no. Tu comprai ieri? Noi, quando paghavamo adesso Ravone. L'inna? L'inna. E noi? Vi cagliati questa linea? Noi, a Pittagliari. Non c'è lui. Nel libro è submonale, ognuno di ieri esiste questa linea. Quale libro devi andare e esiste questa linea di aici? Chi è permesso? No, no. Non c'è lui. L'occasione, se la gente ha trovato una cosa in agricoltura, non c'è lui, non c'è lui. Ok. Sempre in sardo, adesso passiamo all'Italia. Un attimo. Fustetti arrivati su Zordau, in Roma? In Roma, vicino al Casino, Rebascanina, Gazelta, Napoli. Casino? Quando? Casino. Casino, quando? Si è venuto dalla guerra. Quarantadresi? No, su Quarantagimbe. Quarantagimbe. Si è venuto da Casino? Il Capobivo. Come si è venuto da... Sobre un muro alto, via 3 metri. Sobre un muro alto. Prozato fuori da 3 metri. che ha distrutto tutto il Casino. Invece è il suo monastero, via bambargiato. Si è fatto... Pagando il suo monastero, da Casino, il suo monastero, avevano un cannone, un po' campione. per la guerra. Si è venuto da un po' campione, che si è venuto dalla guerra. No. Se si è venuto al referendum, chi è venuto? In Roma. Si è venuto in Roma? Si. Repubblica o Monarchia? Repubblica. Repubblica. Americani, si è venuto a Glipp? Portati? La mia ha preparato con gli ingressi. La mia ha preparato abbresso questi ingressi. E la Grecia? La gente si ripeteva? Ma non è più amato. Ma non è più amato. E' vero, è vero. E' vero? E' vero con gli italiani o dei caratteri? E' un paio dei caratteri. In che anno si è cogliato? 52 E domo su? Domo di affitto Domo di affitto? Quando si è costruito? O si è comprato? No, costruito in 58 In 58 Fustetti o maestro del muro? Già un po' cosa nemmeno E uno frate ha fatto il muratore E uno frate ha fatto il muratore E... Le pecole Dei gassetti Dei gassetti? Non i gnonelli? No Non ce n'erano più Non c'erano le bustelle Però Si pianta i gassetti Spingiata I gnonelli Eh ma prima Non ti ha conosciuto il muratore Non ti ha conosciuto il muratore? Sì Sul locale E' già dopo un noto Ma poi in donna E noi E' sul locale? Come te che si ristrae Ardauli Dalla parte di Ardauli? Dalla parte di Ardauli?